ciao amici di liceomania, ciao vi auguriamo un buon Natale, buon anno, tanta serenità, soldi, tanta salute, prosperità, di tutto il mio più, da Margo e da Marilisa Maniero, e noi ricordiamo di venirci a trovare nelle nostre serate e vi ricordiamo anche che il 31 dicembre saremo anche a Col di Goro, in provincia di Ferraro, Marciate, buone feste a tutti voi, ciao, tisciomania.